www.mesmerism.info Ho preso conto della giornata di ieri, curta attore, vincimo tra uno. Ho un paio di roba grossa, mi limpeto. Si, 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 si. Si, 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 si Palla a campanile! E' dupendo! 2 stop, incredibile! Perdo! Fisichella è primo! Fisichella arriva Battistrute! Battistrute a 1, Fisichella a 0! E' dupendo! Fisichella a 0! Fisichella a 0! Fisichella a 0! Fisichella a 0!